Conosci questo tipo di situazione? Torni a casa la sera e vuoi guardare il tuo programma preferito, ma il telecomando è introvabile o ha le batterie scariche? Ti mostrerò come puoi usare il tuo telefono come telecomando sulla Blue TV. Tutto ciò di cui hai bisogno è uno Swisscom Box e un dispositivo su cui hai installato l'applicazione Blue TV. Ora accedi all'app Blue TV con il tuo Swisscom Login e fai clic su Altro, in basso nella barra di navigazione. In fondo trovi ora il telecomando. Cliccaci su e il tuo Swisscom Box dovrebbe collegarsi automaticamente al tuo apparecchio. Se ha funzionato tutto, potrai accendere il box. Ora sul tuo smartphone ti verrà mostrato il layout del telecomando. In questo modo puoi attivare tutte le funzioni disponibili anche con il telecomando normale, in tutta semplicità con il tuo smartphone. Ora sai come accendere e utilizzare e spegnere il tuo Swisscom Box anche senza telecomando. Mi chiamo Ricky, alla prossima!